In un mondo drogato di adrenalina, dominato dai robot, plasmato dai computer, un appassionato di cinema inizia un viaggio straordinario. Sono Nor Williams e se il vostro senso di ragno pizzica, saltate a bordo. Andremo dove scienza e cinema si incontrano. Ciao, sono Nor Williams. Oggi avremo il privilegio di guardare da vicino quella autentica meraviglia chiamata motion control. Una tecnologia che permette ai registi di fare l'impossibile. Trasformare modellini di incrociatori stellari, combinare scene dal vivo e computer grafica e persino clonare un essere umano. Ehi tu, che ci fai qui? Incontreremo chi ha creato gli effetti speciali di guerre stellari. E conosceremo un robot cineoperatore chiamato Milo. Quando ho detto facciamo un giro, non pensavo a questo. Bel robot! Imparerò come si crea da zero un personaggio virtuale. Voi siete Matrix? Bene, Jim, puoi partire. Azione. Accidenti, sembra ancora più veloce. Ora l'orizzonte si sposta quando la moto si inclina. Assolutamente sì. È come un vecchio videogioco della Sega Genesis. Incredibile. Tra le due riprese c'è enorme differenza. Già. Quindi puoi scegliere... chiedendoti qual è la resa artistica, qual è l'effetto che voglio ottenere. Tutto bene, Frank? Puoi rientrare. Che esperienza! Prima di saltare su una moto e partire verso il tramonto, scopriamo come ho filmato la corsa a piedi vista prima. Gary, cosa mi hai messo addosso? Benvenuti a Science of the Movies. Si parte! Grazie a tutti. Autore dei sorrisi